Un bisceglie sfortunato e troppo poco incisivo in fase realizzativa accade al Gustavo Ventura al cospetto di una Juve stabia cinica che grazie alla prodezza di Borrelli al quindicesimo della ripresa conquista tre punti di platino in ottica playoff, battuta d'arresto dolorosa per il team di Papagni che resta in piena zona rossa. A partire meglio sono proprio i nerazzurro stellati che al ventunesimo vanno vicinissimi al vantaggio. Pennellata di Gironne bordata di Cecconi, Sfera che si stampa sulla traversa. Bisceglie che resta in proiezione offensiva e tre minuti più tardi dopo una bella azione sviluppata sulla destra, Mansoor calcia la soterra, palla di poco a lato. Le vespe non sembrano in grande giornata ma al trentasettesimo mancano clamorosamente il vantaggio sugli sviluppi di una punizione. Trost mette al centro con il portiere biscegliese Spurio a terra ma rotta. A porta sguarnita centra incredibilmente il palo il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nella ripresa gli ospiti cambiano marcia e si riversano nella metà campo biscegliese. Al cinquantesimo difesa di casa disattenta e volè di Borrelli che termina alta sopra la traversa. Spingono gli uomini di Padalino e un minuto più tardi ci prova Fantacci dalla distanza. Spurio per evitare problemi si rifugia in corner. Al sessantaquattresimo arriva il vantaggio campano. Azione di contropiede, sfera sui piedi di Borrelli che stoppa e ingirata. Trova l'angolo lontano dove Spurio non può arrivare. Gran gol dell'attaccante cresciuto nel Pescara e Juve Stabia avanti 1-0. La squadra di Papagni accusa il colpo e nell'ultimo quarto d'ora prova a reagire. Al settantaseiesimo Rocco tenta il tiro dai 25 metri che non impensierisce Russo. Un minuto più tardi sempre Rocco ben servito da Musso prova il diagonale dal limite. L'estremo campano blocca a terra. All'ottantacinquesimo nuova occasione per gli ospiti in contropiede. Scacca Barozzi penetra centralmente e calcia a palla di poco alta sulla traversa. Il Bicelli all'ultimo disperato tentativo per impattare il match sui piedi di Pedrini che da posizione ottimale calcia di poco alto sopra la traversa. Finisce 1-0 per la Juve Stabia e il Bicelli dovrà subito accantonare questa sconfitta. Mercoledì prossimo c'è l'importante derby contro il Monopoli. Grazie a tutti.